No 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 no! Salve a tutti ragazzi siamo i suoi effetti imbrossi sono Adalbis Sono Ray E io sono Loc Siamo su Super Mario e Gale Magari facciamo partire anche timer? E' comodo lì il coso? E' comodo il timer? E' sempre stato lì E' comodo il timer il... Oh madonna ma siamo qua Aspetta aspetta Stiamo facendo i livelli bonuses In realtà potremmo finire il gioco quando vogliamo Si esatto Siamo davanti al... Il problema che questo livello è... E una volta che fai questo la sei a posto E' proprio l'impresa Provi andare a morire... I primi 20 secondi muoio sempre io tra l'altro Si davvero No tocca un cazzo No vabbè... Non cominciare Non cominciare Proviamo... Proviamo una testa e tanto... Tu provaci davvero perché stanno finendo le vite E non ci vuoi di farmarle di nuovo Non basta entrare in pericolo Ma si Ma io non so come si fa a fluttuare Vai avanti Non devi Guarda come fluttuo bene Un giro di... Un giro di morti Fa bene la salute Sai... Ti va un po' le vene La faccio io Comunque... Sapete oggi stiamo tutti bene Eh... No vabbè... I primi secondi non vale Dai tu sei morto addirittura instant Si 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 Non neanche aspettato di venerla Ma perché devo prenderci la mano latina Si oggi... Loc sta bene Io sto bene Ad albis è più o meno Così sto bene Ad albis è il muore No no Il crepa a cuore No sto bene No no Lui muore No lui muore punto Qualcuno Ma vai Una pista di controllo Tutto a posto Tutto a posto Dai Ma si ad albis è... Lo sai qual è adesso? Mal che vada Trovate un nuovo ad albis Da sostituire Ci mettiamo una figa finalmente Oh minchia aspetta lo so Speriamo che muore Tutti i commenti La quota rosa dei super fighting bros Ogni volta è questo quello che ti creda Quello lì quello sotto No l'abbiamo già provato No è quello lì No 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 è quello lì no Perché tu sei andato su quello Ero sicuro Ero sicuro E tu sei andato su quello Era l'altro Era quello in alto Perché l'altra volta vado a sotto Era il primo Altri due vite in meno adesso Ma che cazzo di... Cioè se mi butto a posto mi butto Ma ne abbiamo 26 Eh le avevamo su 99 Tipo un minuto fa A livello di video Se li metti uno dietro l'altro Sì in effetti Tipo sarà 40 minuti Avevamo 50 40 minuti fa di gioco 70 ne avevamo Guarda che era tre video fa Tipo che avevamo Quindi sarà tipo 45 minuti di gioco 99 vite po' E comunque non si muove in Mario World Ricordiamolo quando siamo partiti E' molto facile Vabbè Vaffanculo se i ultimi livelli Ci mancherebbe che fosse una cazzata Anche i ultimi livelli Prendiamo più tardi possibile Vabbè tanto è sicuro in mezzo adesso Però come fai a saperlo Dile la prima volta Beh ma se li vai dentro Volevo fare veloce Perché sennò poi Ma aspetta un secondino Vai ad Alvis Vai a fare un giro anche a me Va Vabbè basta andare solo su e giù Poi quando sei lì Cioè Cioè E' la decima volta che usiamo Sto cazzo di palloncino Io non ho mai E ad Alvis ogni volta Io non so come si usa Ma io non l'ho mai usato ancora Perché muoio qui Oh Da bello bello Bel salto Mi è piaciuto Vai ad Alvis Mi è piaciuto il salto No perché è una mano troppo alto Perfetto Prendilo il più tardi possibile Sì è proprio lo prendo Sì Sì Eh ma perché Non è ancora pratico Non è ancora pratico Col su e giù del gombo Ma perché c'hai l'orologio? E' vero C'è l'orologio Ce l'ho sempre avuto No nei video no Nei video si ce l'avevo Andate vedere l'ultimo video Non lo so perché di solito Lo tolgo la sera Ma se non mi mette l'orologio Sai come è? Io di solito lo tolgo la sera Quando venite a fare registrare Alle nove Oggi siete venuti alle sei Tipo finito di lavorare Sono arrivato qua E ho messo la mezza No non puoi Loc Cosa fai figo Cosa fai? Cosa fai? Ma togli l'orologio dai Se la casa tua Tranquilla Ti da fastidio Vabbè ormai ce l'ho Ti da fastidio Lui sa che mi da fastidio Mi da fastidio anche E quando sapeva che mi massaggiavo le gengive No che ti mordevi le gengive Non le massaggiavo No non era massaggiavo Com'era? Te le schiacci Te le schiacci Adesso qualcuno provate a casa A schiacciarvi le gengive Schiacciati tutti insieme le gengive Adesso usare le mani Perché stavo giocando Un'azione che facevo con la mia bocca Eh sì sì Eh ma quelle azioni che fai con la tua bocca Sono sempre deliziose Le azioni con la bocca di Loc Sapeste Occhio Oltre a deliziare voi utenti Delizia tutto il genere E con gli urli che fai ogni tanto con la bocca No il urli è gradievoli conversazioni E questo Ah che io avrò riso Avrò riso mezz'ora Al BAHHA Vedi che è quello Porca puttana Ora vedi che era il primo Coglione BAHHA So il BAHHA di Antonio di Loc Di Antonio Di Antonio Che cazzo è Antonio? Di Loc di qualche puntata fa sta Perché quando c'è Un nostro utente Che si chiama Antonio Colucci Ma ma Che lo giù Potrebbe essere un account Nascosto del nostro amico Loc Sei un falso Un falso Perché No è perché E tu non ci stava più quello originale Non ci stava di carattere È vero È un segreto il cognome di Loc Un segretissimo Nessuno lo sa eh Vero perché non c'è Cioè no nel senso Neanche su Facebook aiuto Aiuto E no pure anche finisca Finisce Ma no nel dubbio stai fermo Nel dubbio Non va a carburante Va a tempo eh Consumi meno Su il piano Vabbè o ce la facciamo però Andiamo a fare il post finale Questo è il livello più difficile del gioco Ragazze vota Ragazze Ragazze Allora Non vota nessuno Votate se volete Che finiamo il gioco Andiamo avanti con i livelli bonus Così Vabbè Tanto ormai Siamo alla prima puntata delle tre che registriamo È vero È vero Fatemi fare un piccolo Mi sono incogliorito No ma puttana Vabbè Vabbè No diciamo fatemi fare un Un piccolo messaggio Fatemi fare un messaggio pubblicitario Pubblicizzati Mi pubblicizzavo Se mai volereste comprare le nostre magliette Adesso sono scontate a 10 euro anziché 15 Magari qualcuno diceva Era un po' caro C'era offerta estiva L'offerta estiva dei super I saldi Dei super fighting boss Come i saldi steam Invece di buttare a 10 euro in un gioco di merda Comprimamente i super fighting boss Comprimamente i super fighting boss Comprimamente i super fighting boss che l'ho indossate Ma almeno è qualcosa di fisico e tangibile Ma è qualcosa di fisico materiale E non è un DLC la nostra maglia È vero È vero Non ha bisogno di DLC la trova Può darsi che magari metteremo delle braccia All'aggiungere Ecco ecco Eh Ma puttana troia E comunque ci sarà il link in descrizione E se li provo Ma che no adesso tocca ad albis Tocca ad albis Poi ad albis potrebbe saltare il giro su questo livello Perchè lo vedo debole Ma sto facendo la stessa vostra figura eh Cazzo di Viene ancora la metà della nostra figura Ma che cazzo dici Sei morto tipo instant eh Una volta tu sei morto di strano va Eh guarda Amore guarda adesso Oh Ecco Eh sei fottuto No 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 Non è tutto bene Vai vadi Vai fri va Se mi dubitano delle mie capacità Si ballo un po' il culo Eh vabbè Su Super Mario Prendi 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 Non fare come me Non fare come me Ma cosa stai facendo? Eh sei fottuto L'ho preso Non ci credo che quellino l'ha fatto L'ho preso L'ho preso Che culo vai giù Il primo il primo Du 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 Ma va lento giù Eh vai muoviti Attento sotto Attento alla palla di merda Vai 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 ad albis Che qua ci smerdi eh Wow Attento attento No 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 E lì lì Vai vai E lì sotto Non c'è nessun più No no sei un coglione Sei un coglione Andavo avanti e finivo Si era l'ultimo quello Ma sei un coglione Se lo sapeva lui Ma che cazzo sa lui Che siamo una cosa dove vive E' colpa vostra se hai perduto Ce l'avevo fatta Siamo una cosa dove vive E' una cazzata Vedi Non dirmi Come tutti Tutti li veni di mywatch E' una cazzata Basta E' un segreto E' una ma Bravo Oh comunque ma tu non arrivi neanche lontanamente E' da morire Comunque siamo solo in seconda No gli altri sono più facili Gli altri sono più facili Gli altri sono più facili Vediamo eh No perchè sono normali comunque gli altri Ok ok Guarda che qua è facile Si rinfaccio da parte dei nostri utenti eh E' vero Quindi occhio Non si può dire niente Può dire niente Attenzione Eh siamo zitti di bravo Ma lascia farlo da Dalbis Perché deve finirlo da Dalbis Basta Doveva finirlo da Dalbis Può piangere Ma ce ne sono mille di questi livelli ancora visto Adesso te ne sei accorto Eh si Perché faccio il lavoro difficile Mi faccio Perché è troppo facile Perché Dalbis è Modi alternativi Siamo a 18 vite comunque Iniziamo ad entrare nella zona lossa Nella zona calda eh Secondo me a 10 vite Iniziamo a preoccuparci seriamente 10 vite andiamo nel bonus area Top 2 Secret Solo prendo subito Hai capito cazzo Tanto alla fine ci arrivi lì eh Ehii Non ci arrivi Ehii Ma ci arrivi tutto da qua Se puoi Ci arrivi sul primo e devi essere veloce Si no guarda che mentre fa ancora così ci mette un casino eh Aspetta al prossimo Eh ma cosa fai vai vai avanti Tu dai mi sti to be Non ti to be Eh ma ti to be come un giacca madonna Noi Perché io aspetto Fluttuo Eri così Perché io fluttuo me lo devo È un telefono che suona Addio È il telefono di ready su Vetti imbosso mi hai fatto un cazzo Schiacci off Oh È la mia soleria Da 6000 anni tipo È la mia soleria Ironman ea non devo dirlo Ironman Ma non si sentiva tanto Infatti Ma se non si sentiva è un problema Come adesso dirlo La indovini La indovini anche se non si sentiva La indovini Ha continuato a dire questa cosa Eh Comunque Una canzone degli Ironman Una canzone degli Ironman E' troppo più alto Genevico gazzio Ma sono 200 Famosa Aaaaa Ma davvero Veramente siete ridicoli possiamo finire sto livello per favore dai voi esperti in super mario world potete finirlo ma cosa fai? che fai? l'altra volta mi hanno lanciato questo sulle palle e ho dovuto soffrire in silenzio mentre facevo il video ma silenzio? lo dico adesso perchè non riuscivo a parlare ma il video è un po' lontano di poco si sentite? si sentite? si sentite ragazzi? commentate si vi sentiamo ma senti? mi metti le mani addosso? non mettermi le mani addosso che cazzo lo metti? giusto era giusto prima quello che faccio io è sempre giusto no solo Ray fa tutto giusto io non sbaglio mai tu non sbagli mai ad Albi? si si io non sbaglio mai no Ray non sbaglia mai ma è tutto giusto quello che fai è diverso non arrivi neanche a sbagliare è tutto giusto di base è tutto giusto e allora è giusto c'è un secondo fine in questo sbaglio e quindi è giusto è un gentiluomo perchè a me piace insufferci è vero è noto che torno indietro spesso cioè ho questa abitudine di schiacciare indietro uuuuuh sei fottuto ma che sei fottuto? sei fottuto! basta! game over carica qua è tipo subito tra l'altro qualcosa uuuuuh 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 Vabbè, ma io sono più grosso a tutto, cosa c'entra? Eh, tutto! Eheh! Capisce, capisce! P.R.P. Mori! Basta! Fini il game over! Prendilo! Oh, ma occhio, occhio, occhio! Ma tu vai proprio di flow! Ti ricordi Donkey Kong! Madonna, prendi la barra! E' questa cosa! AXA! SEEEEEEEEEEE! Bravo! Orco... Sp... Qui era un si as... ...e quel aspettato! Iiiiiiii... Madonna mia, oh! Ma ci voleva tanto... C'erano ma un metro dalla fine... Non abbiamo fatto una puntata, però... Però sommate le altre... E anche una... Continue e... Ah, poi ogni volta che ne fai uno... Si... Big level... Quindi toglia qua i video infiniti, in realtà, perché puoi scaricare sempre lì... Puoi scaricare... E' vera, perché non carichiamo... Perché sono grande... Perché è finito il livello... Perché è finito il livello e mi ha dato il fungo perché avevamo il coso... vai di fare on eh, di fare on onninda no, devi fare off, nel senso vai onnizza ma in realtà cambia cambia proprio il...eh vabbè devi usare altro salto che gli salti sopra ma non è che devi saltare in sopra adesso per forza vai 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 ma quale...ah non off il cambio no cambio io quello che voglio ma che palle ste cose ma perché non vi piacciono, sono proprio dei fantasmi sei vero? no 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 invece si invece è proprio si si no fai lì e adesso torna indietro e muove vabbè ma intanto si copre eh no torna lì whip ah non si aggancia non si aggancia di gusto anche invece di consigliarmi ma che cazzo ne so io no non è mia io non ho idea quindi muoio vabbè ma è una cazzata ditemi io on off perché tu te lo sei a memoria te lo ricordo ma non mi ricordo il livello in realtà puoi scegliere onn vai è uguale va bene onn eh no perché qua schiva qua in effetti non lo sai usa l'altro salto con sti cosi che gli puoi saltare sopra vai di nuovo vai di nuovo ah ok qual'è l'altro salto? siamo alla fine di un cazzo di waltru io t'ho già spiegato l'altra volta vai giù io non ci ho giocato quello 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 non l'abbiamo mai usato e non ci ho mai giocato no non dovevi invece non dovevo perché no uuuuuh cos'era? no non potevi tanto si 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 non devi farlo non devi farlo fino alla fine a sto punto vai avanti e torni dietro che muori come ha fatto lei vedi vabbè ma Locke delivano go ahead bitch ma si Locke mi fai vomito ma fai adesso lo fai così bom va bene per tutto non le ammazzi ma c'è seghino no però ci puoi salire sopra c'è seghino sotto seghigno hai visto? vedi ma è il migliore suo Locke io me le ricordo vabbè ma come ho riappente che non mi ricordo ma come fai a saperlo cazzo? oh è quello che stavo dicendo ma come fai a saperlo se la prima volta non puoi saperlo mi fai vomitare vai eeeh no hashtag vomito vomito ah non mi permessi di lasciare sei un coglione aspetta voglio provare cioè quello è proprio che mi cazzo è puro volevo provare ma si può fare il salto dai ti prego ho detto qual è l'altro salto ma tanto carichiamo e siamo con poche vite carichiamo e gigio carichi il livello prima e siamo un punto a capo hai fatto save e continue si carichi un emulatore ma chi cazzo lo sai non abbiamo mai usato l'emulatore qua praticamente ti sei alzato sei un coglione adesso te prego adesso te prego non ho voglia e vuoi fare un'altra partita perdendo troppi mi dovi sto braccio che ho caldo per favore si fa caldissimo eh non facci niente non puoi mettere i pantaloni corti e li vuoi lavare tutti ne ha uno ne ho tipo due di corti solo però tu non hai quelli corti ah è tipo quello acqua in casa no 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 quelli corti da sportiva chiamati oh cazzo qua è difficile come fai scusate devi salire blu blu sopra di loro blu blu sopra di loro blu blu non lo fa ma porca puttana ma comunque dai 33 secondi tu non hai mai messo dei pantaloni corti poco corti no no ce li ho questi ma lui ha non ho capito che lui sono pantaloni corti per gli altri ma cosa fai ma rifallo no io ho i pantaloni corti normali no per gli altri sono pantaloni corti normali solo che lui rimane a mezzigambe non le ho messo le gambine ahahahahah i pinocchietti non resistono prende i pantaloni corti i bermuda i bermuda sono i pinocchietti seghino e ci vediamo nella prossima puntata ecco senti questa canzone ma senti eeeh 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 nessuno mi tiene il co fai partire timer da 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 non vi preoccupate torniamo fra un secondo fra un secondo